Qualunque malato, proprio qualunque, deve essere sempre felice, qualsiasi persona anzi. Un messaggio di coraggio, speranza e voglia di vivere è quello che ha regalato ai suoi coetanei, ma in generale a tutte le persone che soffrono di una malattia anche grave, Omar Dabi, 16 anni, studente dell'ISIS Manzini di San Daniele. Omar ha raccontato in un libro la storia della sua vita con un tumore al cervello, una malattia grave a cui ha opposto il suo forte desiderio di non dargli la vinta. Volevo fare anche per dare consigli anche per questi bambini o ragazzi malati come me. Nel salone dello scriptorium Foro Iuliense di San Daniele, 450 studenti del Manzini hanno assistito alla presentazione del libro. La storia di un calvadio che deve essere da esempio. La famiglia e il liceo hanno supportato senza indugi l'iniziativa di Omar. Noi Omar lo conosciamo da tre anni, abbiamo fatto il percorso con lui e la sua famiglia, lo sosteniamo e soprattutto noi apprezziamo la grande forza che lui ha, la positività e il pensiero che ha sempre rivolto verso gli altri. In età così giovane è molto difficile poter accettare una determinata patologia, in questo caso un glioma della linea mediana e dunque ci ha colpito molto proprio come famiglia, anch'io ne ho sofferto molto, però mi sono resa conto che in queste occasioni qua bisogna essere forti. I malati oncologici hanno bisogno di assistenza non solo medica, ma anche nello svolgimento della loro vita quotidiana ed essere aiutati a coltivare le proprie passioni, soprattutto se sono in età pediatrica. Noi associazioni cerchiamo oltre che dare una mano, dare un'aiuto alle famiglie anche di sostenere le attività che vengono svolte all'interno di queste strutture ospedaliere.